Vi sono degli aforismi e dei precetti che il candidato all'iniziazione deve studiare e rispettare. Fra l'aspirante al sentiero e il candidato all'iniziazione vi è una grande differenza. Chi aspira al discepolato e cerca di conseguirlo non si impegna in alcun modo alle specifiche norme di vita e alla disciplina del candidato all'iniziazione e, se lo preferisce, può prolungare quanto vuole il sentiero della prova. Chi si propone l'iniziazione si trova in una situazione diversa e una volta avanzata la richiesta deve imporsi una regola di vita ben precisa e seguire un regime severo che è solo facoltativo per il discepolo. Le quattordici regole che seguono sono estratte da una serie di istruzioni compilate per coloro che cercano di conseguire la prima iniziazione. Cominciamo con la regola numero uno. Il discepolo cerchi nel profondo del cuore. Se il fuoco vi divampa e riscalda il fratello e non se stesso, è giunta l'ora di chiedere di presentarsi alla porta. Quando l'amore per tutti gli esseri indistintamente comincia ad essere una realtà nel cuore del discepolo, ma è privo di amore per se stesso, ciò significa che si sta avvicinando alla porta dell'iniziazione e può assumere necessari impegni preliminari. Questo è necessario prima che il maestro proponga la sua candidatura. Se non si cura delle sofferenze e del dolore del sé inferiore, se gli è indifferente la felicità, se il solo scopo della sua vita è servire e salvare il mondo e se le necessità dei suoi fratelli sono più importanti delle proprie, allora il fuoco dell'amore irradia il suo essere e il mondo può riscaldarsi ai suoi piedi. Tale amore deve essere messo in pratica e dimostrato e non restare una teoria, un semplice ideale, un piacevole sentimento. Deve essersi sviluppato attraverso le prove e le esperienze della vita, in modo che il principale impulso vitale tenda al sacrificio di sé e ad immolare la natura inferiore. Regola numero 2. Fatta la richiesta in triplice forma, il discepolo la ritiri e dimentichi che è stata fatta. È una delle prove iniziali. Il discepolo non si preoccupa di giungere o meno all'iniziazione. Qualsiasi movente egoistico deve essere escluso. Il maestro trasmette all'angelo archivista della gerarchia soltanto le richieste che gli giungono attraverso l'energia generata da momenti puri e altruistici. Solo i discepoli che cercano l'iniziazione per il maggior potere di aiutare e benedire che conferisce riceveranno risposta alla loro richiesta. Chi non si cura dell'iniziazione non riceverà l'oggio occulto e chi per egoismo o curiosità è ansioso di partecipare ai misteri non varcherà alla porta ma rimarrà fuori a bussare. Coloro che desiderano ardentemente servire, oppressi dalla consapevolezza delle necessità del mondo, risvegliando così il senso di responsabilità personale, coloro che hanno adempiuto la legge busseranno e verrà loro aperto e la loro richiesta sarà accolta. Sono coloro che lanciano un appello per ottenere maggior potere di aiutare ed esso giunge all'orecchio di coloro che attendono in silenzio. Regola numero 3. Triplice deve essere l'appello e molto tempo è necessario per farlo risuonare. Il discepolo lanci l'appello attraverso il deserto, al di sopra di tutti i mari e attraverso i fuochi che lo separano dalla porta pelata e nascosta. Questa simbologia ingiunge al discepolo di fare in modo che il deserto della vita fisica fiorisca come la rosa affinché dal giardino della vita inferiore si levino suoni e profumi e una vibrazione abbastanza forte da attraversare al spazio esistente fra esso e la porta. Di calmare le acque agitate della vita emotiva affinché la porta possa riflettersi nella loro superficie limpida e tranquilla e la vita inferiore rispecchi la vita spirituale della divinità che vi dimora. Di gettare nella fornace infuocata i moventi, le parole, i pensieri che sono causa principale di attività e che hanno origine sul piano mentale. Quando questi tre aspetti dell'ego che si manifesta, il dio interiore, sono dominati, coordinati e utilizzati anche senza che il discepolo ne sia cosciente. La sua voce che chiede l'apertura della porta verrà udita. Quando la vita inferiore del piano fisico è feconda, la vita delle emozioni stabile, la vita mentale trasmutata, nulla può impedire che la sbarra di quella porta venga alzata per lasciar passare il discepolo. Solo una vibrazione sincronizzata con quella esistente oltre la porta ne produce l'apertura e quando la nota della vita del discepolo sia intonata con quella della gerarchia, ad una, ad una le porte si apriranno e nulla potrà tenerle chiuse. Regola numero 4. Il discepolo attenda all'evocazione del fuoco, alimenti le vite minori mantenendo la ruota in rotazione. Queste parole ingiungono al discepolo di tener presente la propria responsabilità verso le molteplici vite minori che nel loro complesso compongono il triplice corpo di manifestazione. In tal modo l'evoluzione è possibile e ogni vita nei diversi regni della natura, coscientemente o incoscientemente o incosciamente, adempie la propria funzione di vivificare ciò che sta ad essa, come il pianeta sta al sole. In tal modo lo sviluppo del piano logoico potrà procedere con maggiore esattezza. Il regno di Dio è all'interno e il dovere del reggitore interiore nascosto è duplice. Prima verso le vite che formano i corpi fisico, astrale e mentale, poi verso il macrocosmo, di cui il microcosmo non è che una parte infinitesimale. Regola numero 5. Il candidato faccia sì che l'angelo solare offuschi la luce degli angeli lunari, rimanendo il solo luminare nel cielo microcosmico. Per adempiere questa ingiunzione, i candidati devono in primo luogo studiare la propria origine, comprendere la propria vera psicologia in senso occulto ed essere scientificamente consapevoli della vera natura dell'ego o sé superiore, operante nel corpo causale. Per mezzo dei tre corpi inferiori devono poi affermare la loro divinità innata sul piano fisico e dimostrare sempre maggiormente il loro valore essenziale. In secondo luogo devono studiare la costituzione dell'uomo, comprendere il funzionamento della natura inferiore, rendersi conto che tutte le cose viventi sono interdipendenti, correlate, assoggettando così le vite minori che compongono i tre corpi. In tal modo il Signore solare, la realtà interiore, il figlio del padre, il pensatore sul suo piano, diviene intermediario fra ciò che è terreno e ciò che dimora nel sole. Due passi del Vangelo accennano a tale concetto e per gli studiosi occidentali sarà molto utile studiarli e meditarli. I regni di questo mondo sono diventati il regno di nostro Signore del Cristo Gesù. Ed anche, oh Signore nostro Dio, altri oltre te hanno avuto dominio su di noi, solo grazie a te potremo pronunciare il tuo nome. Quest'ultimo verso è particolarmente interessante perché mostra la soppressione del suono inferiore e della forza creativa inferiore da parte di ciò che ha un'origine più elevata.